A chicchi, buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti, ben ritornato a posto Alex Rossi siamo qui ritornati in questo nuovo video, ragazzuoli, ragazzuoli post partita in Senua Roma finita 2 a 0, paroma, paroma, finalmente ragazzi torniamo alla vittoria ma e come ci torniamo con un super Felix che entra dalla panchina e risolve lui la partita e con un super gol di Felix, grandissimo giocatore che mi sta piacendo ovviamente adesso calmi, non diciamo che questo giocatore deve, cioè ragazzi è un giocatore di buona prospettiva però ma ho fatto godè stasera, ma ho fatto godè stasera, ma ho fatto godè, posso godè? ma posso godè? ma posso no, posso godere, mamma mia ragazzuoli veramente partita, cioè non si può di nulla perché ragazzi abbiamo abbiamo, si può di dominato, ho fatto un cazzo il Genoa noi abbiamo avuto le occasioni per poter segnare, abbiamo segnato nel primo tempo con Mkhitaryan che oggi è stato migliore in campo, quando io dicevo Mkhitaryan un po' sparito Mkhitaryan un po' così, lo dicevo anche su Arena Sportiva oggi Mkhitaryan è il migliore in campo, voglio, ha giocato benissimo anzi no benissimo, ha giocato stra bene, ha fatto una bella partita ragazzi che cosa gli vuoi dire, che cosa gli vuoi dire a oggi a Mkhitaryan, cosa gli vuoi dire ragazzuoli ci ha provato, ha pure segnato comunque per, che poi lì è stato annullato giustamente per farlo di mano di cosa, come si chiama, di Abram peccato, peccato ragazzuoli però veramente ragazzuoli abbiamo fatto una bella bella partita e abbiamo avuto alle nostre occasioni solamente una cosa che comunque mi sento di dire che quando ho visto che stavamo sullo 0-0 a 8 minuto ho detto, vuoi vedere che qui, vuoi vedere che qui vuoi vedere che qui prendiamo l'inculata, l'inculata del secolo vuoi vedere, per fortuna non è successo ragazzuoli per fortuna abbiamo, diciamo siamo riusciti a portarci a casa 3 punti e diciamo alla fine comunque anche per la botta di fortuna su Raro lì, che è stato spinto da Esherawi e alla fine non ha segnato e lì veramente ho avuto un attimo di paura nel senso un attimo di, oh porca puttana un attimo di, capito poi alla fine è entrato questo ragazzo che comunque Murigno gli sta dando la fiducia non mi ricordo se l'anno scorso questo ragazzo con Fonseca era già stato portato in prima squadra ma comunque quest'anno con Murigno gli sta dando fiducia sta giocando, sta entrando comunque nel secondo tempo e diciamo che questo è un ragazzo che secondo me può fare bene oggi comunque ha fatto benissimo ha fatto un gol comunque che si è scartato praticamente mezza cosa mezza difesa, se non erro ma non mi ricordo bene il primo gol ma poi il secondo ragazzo è stato veramente un capolavoro proprio da chapeau nel senso io lì sono rimasto a bocca aperta ero in live sulla piattaforma viola ho detto porco due cioè io non sapevo più che di sono rimasto scemonito dal gol che ha fatto ovviamente godo perché era fondamentale comunque portare a casa tre punti visto che comunque la Fiorentina ha vinto la ragazza aveva perso la Juventus che sta continuando a vincere una sorta da Landa ha vinto e comunque tu avevi perso già quella partita contro il Venezia non potevi permetterti di perdere un'altra partita e alla fine diciamo sono contento per aver portato a casa questi tre punti veramente meritati perché comunque il Gianno oggi non ha fatto nulla cioè quindi giustamente ragazzoni ci portiamo a casa tre punti e niente testa la prossima partita che non ci sarà a bere tu gli faccio un in bocca al lupo a Sheva per il proseguo del campionato la prima dovevo perderla e chicco mi dispiace mi spiace Sheva spiace per Sheva però la prossima comunque la vincerai non so contro chi gioca il Gianno la prossima partita però la prossima la vincerai la prossima sarà quella buona e benvenuto in Italia anzi no bentornati in Italia e niente io comunque sto a godere come un porco ragazzuoli come un porco come un porco ragazzuoli sto godendo come un porco ragazzuoli mamma mia mamma mia vincere così è ancora più bello cioè posso godere ragazzuoli posso godere sto godendo incredibile godo dopo tante Madonne arbitri contro cazzi estramazzi oggi oggi voglio oggi godo ragazzuoli è giusto è giusto è giusto così ragazzuoli cioè quando Madonne come settimana scorsa come settimana scorsa in senso calcisticamente seria parlando che abbiamo diciamo perso contro il Venezia e oggi comunque godo perché veramente ragazzuoli questi tre punti servivano per secondo me anche dar fiducia alla squadra detto questo ragazzi vi invito a lasciar mi piace a schiacciare il canale sempre e comunque forza grande roba un bacione e sto godendo come un riccio